Come gruppo consigliare della Lega di Fano abbiamo chiesto tramite una mozione di riaprire tutto il fascicolo del casello di Fenile. Riteniamo fondamentale e importante da parte dell'amministrazione riaprire la conferenza di servizi perché il casello di Fenile rappresenta sicuramente uno snodo importante per alleggerire la statale adriatica 16 e per collegare meglio le due città di Fano e di Pesaro e non solo, anche tutto il resto dell'entroterra di Pesaro e di Fano. Sannirebbe quindi il traffico, è un'opera importante e strategica per il nostro territorio, regione, provincia e anche gli stessi comuni sono sempre dimostrati favorevoli al progetto. Dobbiamo riaprire il fascicolo, cercare, se ce lo chiederanno gli enti preposti come il Ministero dell'Ambiente e la sovrintendenza, di ridurre l'impatto del casello e eventualmente, in seconda ipotesi, di valutare anche l'istanza del casellino, ma non possiamo più perdere altro tempo e bisogna riaprire tutta la pratica.